Buongiorno, ben ritrovati, it's a match day perché la Juventus oggi affronterà in casa il Malmo e quindi vedremo quale sarà la posizione finale che i bianconeri otterranno nel girone, però in questo video, nel primo video di giornata, voglio parlare di mercato. Ieri sono stato ospite del grande Tosellone in compagnia degli amici Chinosce Colpo Gobbo, abbiamo analizzato l'attuale situazione bianconera, abbiamo anche cercato di analizzare quali potrebbero essere le mosse di mercato nell'imminente sessione di riparazione. E' chiaro che la linea guida rimane sempre la stessa, è vietato sognare perché lo impone il quadro legato a mantenere i piedi ben piantati il suolo, lo impone il bilancio e quindi bisogna essere anche credibili quando si parla, bisogna farlo con condizione di causa e soprattutto attraverso informazioni verificate. Ho fatto un piccolo spoiler ieri da Tosellone perché se lo meritava, dicendo come, secondo le mie fonti, Axel Witzel si stia allontanando sempre di più dal mirino bianconero, il belga che compirà 33 anni il 12 gennaio, che va in scherenza ricontratto con il Borussia Dortmund, è stato un obiettivo non caldo nell'ultima sessione estiva, però un obiettivo credibile, spendibile, perché, come ben sappiamo, negli ultimi giorni di mercato la Juventus ha anche valutato la posizione di Weston McKennie, poi ovviamente i protagonisti smentiranno magari questa mia affermazione perché fa parte del gioco e perché poi quando non si sviluppano determinate dinamiche di mercato bisogna tutelare i propri interessi, bisogna tutelare l'armonia e il patrimonio tecnico. Tra l'altro McKennie che, nonostante un avvio di stagione molto complicato, poi prima che si facesse male è salito decisamente di tono, diventando il più performante centrocampo là, assieme all'imprescindibile Locatelli, però negli ultimi giorni di mercato, scorso agosto, la Juventus ha un po' valutato la situazione McKennie. Ha rifiutato tutte le proposte legate al presito e ne sono arrivate diverse soprattutto dalla Premier League, ma se fosse arrivata un'offerta a titolo definitivo la Juventus l'avrebbe valutata. Offerta a titolo definitivo che non è arrivata e quindi la Juventus si è tenuta stretta. McKennie soprattutto facendo leva sulle sue grandi potenzialità. Se fosse magari andato via McKennie, Axel Witzel avrebbe potuto rappresentare più di un'idea per quanto concerne poi il rimpiazzo dello statunitense. Perché Witzel, la leggenda narra che goda della stima di Max Allegri, e poi Witzel è stato più ripreso a un passo dalla Juventus. Proprio, lo ricordate, la storia l'abbiamo raccontata tantissime volte, con lui che arriva dallo Zenit di San Pietroburgo in corso Gallio Ferrari, si effettua le visite mediche, attende l'ok dello Zenit per firmare il contratto con la Juve. Questo ok non arriva mai nella vita perché lo Zenit in quelle ore fibrili non riesce a trovare il suo sostituto. E Witzel riprende l'aereo per San Pietroburgo. Juve beffata. Witzel è beffato, Juve beffata. Andato per usare uno slogan molto caro soprattutto agli anti-juventini. Quindi la Juve ha sempre caldeggiato questo nome. Poi Witzel ha fatto un'esperienza in Cina, si è trasferito al Borussia Dortmund, classe 89. Quindi probabilmente l'ultimo contratto, essendo un giocatore in procinto di entrare, di assumere lo status svincolato, l'ultimo contratto credo che Witzel lo voglia monetizzare al massimo. E in estate ha rappresentato un'idea calda, più o meno, per la Juventus. Nelle scorse settimane qualche contatto c'è stato, qualche contatto embrionale tra la Juventus e l'entourage di Witzel. Però gli ultimi segnali che mi sono arrivati, che sono arrivati nella redazione di gol.com, a chi segue il mercato con professionalità, non sono incoraggianti. Nel senso che la Juventus probabilmente ha spostato la sua attenzione altrove, verosimilmente anche analizzando le ultime proposte in termini proprio di modulo offerte da Max Allegri. Perché magari Witzel, adesso ipotizzo, avrebbe potuto rappresentare un'idea nel centrocampo a tre, se la Juventus avesse intrapreso questa interpretazione con la linea metodista. Tra l'altro il mio grande amico, nonché collega di gol.com, Giorgio Dusi, uno dei più grandi conoscitori della Bundesliga in Italia, proprio qua sul mio canale YouTube, in terrenuto, ci aveva fatto una fotografia degli ultimi mesi di Witzel a Borussia Dortmund, sperimentato anche come centrale difensivo in piena emergenza in Fortuni, però un giocatore che sta giocando principalmente come play davanti alla difesa. E quindi ci sa che la Juventus abbia valutato questa candidatura, considerando poi come magari con un piccolo indennizzo il Borussia Dortmund possa decidere anche di privarsene per non perderlo proprio completamente a zero a giugno. Però, come vi ho detto, gli ultimi segnali non vanno in questa direzione. Tra l'altro, se Witzel non dovesse arrivare alla Juventus, personalmente sarei molto contento. Non che abbia qualcosa contro questo ragazzo, che comunque in passato ha dimostrato di essere un buon giocatore nazionale, quindi ha giocato anche ad alti livelli, un giocatore che per un certo periodo si pensava che potesse diventare un centrocampisti più interessanti, quando era proprio in auge nel pieno della maturità professionale sull'intera scala mondiale. Invece si è un pochettino perso, poi quando decidi di andare in Cina perché ti fai ammagliare dei soldi, ci può stare. Lungi da me voler fare polemica su questo tema perché probabilmente se mi contattasse una redazione cinese e mi offrisse dieci volte di più rispetto a quanto percepisco attualmente, farei un mini trolley e prenderei il primo volo. Quindi bisogna sempre mettersi nella testa di questi calciatori quando si trovano a dover prendere decisioni così forti. E poi capisco che ci sia anche chi voglia rimanere nel calcio competitivo e abbia anche avuto la forza di dire no alle grandissime offerte che arrivavano dalla Cina, perché come ben sappiamo poi il calcio cinese è cambiato radicalmente, è stato fissato un tetto massimo di ingaggi, se non sbaglio slot per gli stranieri, insomma non è più l'eldo lato di un tempo, però quando Witz è andato in Cina tantissimi giocatori della sua caratura hanno lasciato l'Europa per provare questa avventura. Quindi lungi da me voler fare polemica o fare la morale a chi ha deciso legittimamente di andare a prendere soldoni. Però Witz è il nome che ora non scalda più, non scalda più perché innanzitutto lo diceva anche Giorgio Dusi, sembra in una parabola fortemente discendente, non è un giocatore che sta migliorando con il trascolore del primavere, anzi perde un pochettino in lucidità tecnico-tattica, anche in atletismo, professionista serissimo, mi dicono coloro che seguono il Borussia, però se il giocatore si svincolerà e il Borussia sembra ormai propenso a lasciarlo andare senza grosse remore, un motivo ci sarà. Un po' come era accaduto per esempio con Aaron Ramsey e Alain Rabiot, se rispettivamente Arsenal e Paris Saint-Germain hanno deciso così a cuor leggero di lasciare due giocatori, seppur sulla carta importanti a zero, un motivo ci sarà stato. Questo noi dobbiamo sempre porcelo come interrogativo. Poi è anche vero che la Juve a zero, soprattutto nella prima parte dell'era Marotta-Parapice, va colto delle grandissime opportunità. Andrea Pirlo, solo per fare un esempio, si pensava che il Milan fosse finito e alla Juve ha fatto quattro stagioni, di cui tre alla grandissime. Insomma, bisogna sempre contestualizzare le operazioni e bisogna sempre rischiare. Però, personalmente, immaginare, sapere che la Juventus voglia provare a fare magari qualcos'altro a gennaio a centrocampo e non prendere Witzel, mi rincuora un pochettino, perché è un giocatore che personalmente non mi scalda. Poi, de gusti, bucea, ci servono anche coloro che magari se non arriverà Witzel si arrabbieranno perché la Juventus non avrà accolto questa opzione, questa opportunità. Voi direte, ok, la Juve non è su Witzel, su chi è? Ragazzi, su Zaccaria c'è una grandissima concorrenza. Ci sono club tedeschi, perché si parla tanto in Germania sia dell'interessamento del Bayern Monaco e sia dell'interessamento del Borussia Dortmund. Guarda caso, Borussia Dortmund che perde Witzel e va proprio magari su Zaccaria che a giugno ci si vincolerà dal Borussia Monchengladbach, su Zaccaria ci sono anche club della Premier. Insomma, anche la Juve sta portando avanti comunque i contatti con i suoi agenti, ma non è semplicissimo primeggiare perché un giocatore come Zaccaria a parametro zero fa gol a tante. Poi magari chi ha qualche soldino può tentare di giocare la carta anticipo e quindi provare a mettere le mani su Zaccaria già a gennaio. Vediamo però, se dovessi fare adesso un borsino, direi quotazioni in nettissimo, nettissimo ribasso per Witzel con Zaccaria, che invece è un nome vero nella lista del DG Federico Cherubini, non l'unico, perché sicuramente ci saranno altri due o tre giocatori che la Juventus starà monitorando, però quello che vi ripeto sempre è che a gennaio non si possono compiere folie. Quindi, se c'è qualche soldino, bisogna sfruttare qualche opportunità, anche in base poi a come si stia sviluppando questo disegno tattico, perché tra Salernitana e Genoa abbiamo visto un 4-2-3-1 interessante. Vedremo cosa proporrà oggi Allegri contro il Malmo e vedremo poi quello che succederà in queste partite rimanenti. Quindi parliamo di Venezia, quindi parliamo di Cagliari, di Bologna, di Cagliari. Nelle ultime gare, secondo me, la Juventus assumerà una fisionomia tecnico-tattica ancora più definita che consentirà poi ai dirigenti di poter lavorare su questo scheletro. Un volto nuovo a centrocampo è lecito, lecitissimo aspettarselo, soprattutto se dovesse finire, come lo spieghiamo che finisca, la storia a Torino di Aaron Ramsey, ma questa, a proposito di storia, è ancora tutta da scrivere e vedremo quindi che fine farà il Gallese. Però intanto Witzel si allontana dalla Juventus. Insomma, ragazzi, se volete avere, non riesco anche più a parlare al finale di questo video, tutte le indiscrezioni di mercato a gennaio, quando saremo anche sotto la continassa a 50 gradi a ferragosto, lo sapete benissimo. Iscrivete al mio canale YouTube, azionate la campanella e mettete like nei contenuti. Un abbraccio.